Martino, tu hai coinvolto un autobus, due ragazze presenti tra i passeggeri, cosa è successo? Sì, noi eravamo proprio davanti quindi abbiamo visto molto bene la scena. L'autista molto probabilmente si è sentito male e così siamo andati a sbattere contro dei pali e poi abbiamo preso anche un idrante perché continua a uscire l'acqua. Dopo la botta non siamo più riusciti a capire niente perché gente più urlava, così. L'autista comunque era lì fermo quindi non abbiamo capito molto bene cosa sia successo. Era proprio svenuto, tipo... Era accacciato sul finestrino dall'altra parte e non sappiamo, non siamo riusciti a prendere, a chiamare subito il 118 ma era già lì. Sì, una signora davanti era proprio lì, urlava, perché comunque anche lo spavento. E non siamo... non è riuscito a fermare l'autobus e così siamo andati contro dei motorini sull'altra corsia. Per fortuna non c'era nessuno sugli altri motorini e per fortuna i carabinieri, la polizia, l'ambulanza erano già tutti qua subito a chiederci come stavamo e tutto quanto quindi alla fine è tutto a posto. Grazie. Grazie.